La solitudine non è sbagliata, ma ti rende semplicemente più forte e consapevole. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare di solitudine perché è un argomento che mi sta molto a cuore e secondo me è un fatto, non so, un momento da dedicarsi nella vita almeno una volta per conoscersi davvero, perché è veramente una cosa molto molto potente secondo me. Spesso si collega la solitudine al, non so, star male, all'essere tristi, al non avere amici che magari in tanti casi può essere così, però secondo me invece la solitudine deve essere come un passaggio obbligatorio per poi stare veramente con gli altri, perché se tu in primis non sei capace di stare da solo con te stesso sicuramente non conoscerai nessuno che sarà capace e avrà voglia di stare con te. Molte persone che io anche personalmente conosco noto che hanno proprio paura a star da sole che si circondano sempre di persone, di attività da fare, di esperienze che magari neanche gli piacciono però vogliono provare appunto per non star da soli e questo secondo me è veramente un sintomo di paura, di, non lo so, terrore nello star da soli che secondo me invece bisogna un attimo capire che penso sia una cosa normale della vita un po' come dire l'adolescenza, nessuno può bypassarla e andare direttamente alla fase giovane-adulto quindi secondo me bisogna un attimo mettersi l'anima in pace e anzi prendere questa cosa, questo avvenimento non so neanche io come definirlo, come uno strumento, perché è veramente uno strumento molto potente appunto per capire veramente se stessi che cosa ci piace fare, che cosa magari abbiamo sempre fatto fino a quel momento ma non perché piacevano a noi ma perché magari piacevano alle persone con cui stavamo e ci dà in mano un potere grandissimo ovvero di decidere chi fa veramente parte della nostra vita io personalmente ho avuto un periodo a 18 anni dove ho passato tipo un anno di solitudine diciamo che magari era l'ultimo anno di scuola quindi comunque ero circondata da persone anche se queste persone non erano amiche ma erano semplicemente compagni di classe, professori insomma l'ambiente scolastico normale, però nonostante io fossi circondata da persone fisiche io dentro di me ero sola e non è stato facile, è stato un periodo veramente molto brutto anche perché era l'ultimo anno di scuola dove poi ho dato l'esame di maturità quindi non ho neanche avuto quel momento di gioia da condividere con amici di che bello ho finito la scuola però è stato per me un periodo veramente molto importante che mi ha fatto soffrire tanto ma mi ha insegnato tanto e tornassi indietro non dico che lo rifarei perché sono onesta avrei preferito farlo in un altro momento della mia vita forse però alla fine mi è servito perché se non l'avessi vissuto ora non avrei certe conoscenze, certe consapevolezze che ho e so che sembrano frasi fatte perché spesso le persone dicono eh vabbè ma tu parli così perché si dice sempre che non cambiresti nulla della vita perché se no non saresti come sei oggi però nel mio caso a meno io parlo per me ovviamente come sempre nei miei video parlo per me stessa io sono contenta di averle passate queste esperienze perché se no veramente non avrei tutta la consapevolezza che ho oggi perché io credo che siano i momenti più negativi che ti insegnano che quelli positivi quindi c'è un modo per capire veramente se stessi e questo è stare da soli ma soli 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 poi vi dico la verità io sono sempre stata una persona che comunque è estroversa nel senso che quando sono circondata da persone sono la prima che ama mettere discorsi io anche se sono in un contesto di persone totalmente nuove sono io quella che si avvicina agli altri per fare conoscenza quindi questo me lo riconosco però riconosco anche che mi piace molto stare da sola infatti non so mai se definirmi introversa o estroversa perché a seconda del contesto sono uno o l'altro però amo tantissimo stare da sola l'ho detto anche tante volte nei miei video perché credo sia un momento per stare con me stessa perché è come se mi dessi un auto appuntamento non lo so per far cose che mi piacciono che so che mi piacciono perché sono io a farle e magari in compagnia non lo so non avrebbero lo stesso sapore ecco tipo non so una cosa che a me piace anche molto fare è fare shopping da sola soprattutto cose magari per la casa cose un po' così mi piace molto andare da sola quando invece sono con qualcuno magari mi faccio prendere oppure non do abbastanza tempo a quello che voglio guardare tipo non so se sono con loris ad esempio col mio ragazzo mi succede spesso e volentieri che devo lasciar stare perché sennò lui si stanca invece se sono da sola mi riesco sia ad usare nel senso a non star lì finché non mi rompo ma anche a guardare tutto quello che voglio guardare quindi io veramente ho negli anni coltivato molto il rapporto con me stessa e mi rendo conto che non è da tutti cioè io sto benissimo per esempio dentro un negozio da sola a girare invece vedo persone che devono sempre essere con la mamma con l'amica con la cugina perché sennò si sentono a disagio ma vi assicuro che quando imparate a stare con voi stessi che non è per niente una cosa triste anzi è veramente un valore aggiunto inizierete anche ad amare e ad apprezzare molto di più le altre persone e a dare anche il giusto valore alle persone e a voi con che persone dovete stare perché quando siete abituati a stare con tutti perché ti va bene tutto dopo non dai neanche il valore alle persone che invece veramente nella tua vita hanno un valore grande e invece quando passi un periodo da solo riesci a capire veramente chi fa per te e chi no infatti dopo dai molta più priorità almeno io farei così e da come ho fatto e come faccio do molta priorità a chi veramente tengo a chi veramente amo a chi voglio bene chi mi fa star bene invece tutte le altre persone per me sono dei conoscenti non so magari colleghi a lavoro persone che ho nella mia vita ma non sono per forza amici perché non sono tutti amici anzi io credo sempre che questo detto sia giusto che amico di tutti non è amico di nessuno infatti io mi rendo conto che non sopporto le persone che sono amiche di tutti perché non mi reputo in grado di confidarmi veramente perché non lo so mi sarò di persone un po' false che si adeguano un po' alle situazioni un po' come va comodo a loro infatti io negli ultimi anni ho smesso di confidarmi diciamo con persone che io vedo che sono amiche un po' di tutti amiche un po' di tutti intendo quelle persone che basta che escono non importa con chi quelle che tu vedi sempre in giro magari il giorno prima si parla di una persona il giorno dopo ci esce insieme per me quelle sono persone di veramente poco valore quindi se ci devo parlare perché magari abbiamo non lo so faccio per dire un lavoro in comune oppure non lo so dobbiamo andare a una festa in comune dove ci sono anche loro non è che io le evito come la peste però non darò ovviamente il 100% della mia persona a quelle persone ma gli darò la parte più superficiale perché anche qui è un'altra cosa che vi voglio dire almeno io è una cosa che molto la faccio mia questa cosa qua che vi dico adesso ovvero di decidere che parti far vedere di voi io ho sempre avuto quasi l'idea o comunque l'abitudine di mostrarmi al 100% a tutti ed è sicuramente una cosa molto bella perché comunque ti rende una persona molto trasparente molto onesta molto sincera però poi la vita ti dà un po' qualche lezione e ti rendi conto effettivamente di quelle persone a cui dovresti dare il tuo 100% e quelle persone a cui è meglio che gli dai il 50 al 40 questo non perché devi far selezione anche se secondo me si dovrebbe fare ma più che altro per preservare la tua integrità per preservare la tua privacy perché se siete persone che ad esempio come me a me non mi interessa se mi offendi se mi fai un brutto commento faccio film da non so magari su youtube cioè ovvio un po' mi dà fastidio ma fino a un certo punto però per esempio a me dà molto fastidio se una persona mette becco sulle mie cose personali come può essere la mia relazione oppure cose si legate molto magari alla mia relazione se tipo avessi un figlio tu non me lo potresti toccare il figlio veramente che diventa una belva quindi quando so che nella mia vita magari ci sono delle cose che altri non capirebbero perché magari non sono nella mia situazione non so faccio finta faccio litigio col mio ragazzo io non lo racconto a tutti perché magari quella persona mi può fare dei giudizi così a caso a gratis cosa che a me dà molto fastidio ma non tanto perché io voglio averla vinta su tutti ma perché credo che non ci sia il bisogno del giudizio quindi quando ho qualcosa per esempio che non mi non va non so faccio finta litigo appunto col mio ragazzo non è che sto lì a sbandirarlo a tutti ma lo tengo per me perché tanto può capitare e poi andiamo avanti una volta invece mi veniva molto da confidarmi con le amiche dal chiedere un parere e non è così giusto secondo me a volte certe cose meglio tenerle private soprattutto se sia persone un po' diciamo suscettibili da questo punto di vista quindi per tornare nell'argomento decidete a chi dare il vostro tutto il vostro metà il vostro poco e questo secondo me lo capite solo stanno da soli appunto perché stanno da soli capite il vostro valore capite quanto siete integri siete una persona effettiva per poi capire a chi donare quella persona se a tutti se a pochi se a tanti se a uno e secondo me è solo così potete capirlo veramente perché se continuate a uscire con tutti tutti i giorni con chiunque vi chiede di uscire amici parenti uscite siete sempre lì che raccontate raccontate siete sempre in questo turbinio di non lo so cicli di relazioni di socialità che poi non vi fanno veramente capire chi siete perché magari c'è quello con cui esci che parli di calcio perché ti piace il calcio con quell'altro parli di letteratura poi però magari torni a casa e dici ma a me non me ne frega niente né di calcio né di letteratura invece stando appunto un periodo che possono essere anche un'ora alla settimana non dico sempre però qualche secondo qualche momento per pensare e per dedicarsi un po' a se stessi per capire veramente che cosa ci piace il consiglio che vi do adesso a fine video che non lo so mi farebbe molto piacere se qualcuno di voi lo prende come spunto come idea è di pensare a una cosa che soprattutto magari quando eravate piccoli vi faceva bene vi faceva star bene e magari provate a rifarla da soli nel vostro intimo io vi do qualche esempio tipo a me piace molto scrivere io amo scrivere il mio diario segreto perché amo l'idea di rileggerlo dopo un tot tempo e con il sorriso ricordarmi di quel momento di quel ricordo un'altra cosa che amo fare per esempio è cantare io ho sempre cantato tantissimo ho anche fatto un coro da piccola facevo parte di un coro e ultimamente mi rendo conto che non lo facevo mai un po' perché non so convivo quindi io non so cantare a volte mi imbarazzo un po' e poi non lo so non trovo mai il momento invece ci sono quei momenti dove mi sono detta voglio riprendere ogni tanto a cantare quindi mi cerco un video karaoke canzone qualcosa insomma che posso trovare su youtube mi metto lì a cantare a scorciagola e sto veramente molto bene oppure mi piace ballare con la musica nelle orecchie oppure non lo so mi piace in generale comunque dedicarmi a qualcosa di solo mio di qualcosa che è molto intimo quindi vi do questo consiglio di provare a farlo di provare a riconoscere voi stessi di nuovo perché non so spesso secondo me diamo per scontato la nostra presenza ma non lo è e solo poi appunto riscoprendo come siamo noi stessi all'interno possiamo poi stare molto bene con gli altri perché dopo troveremo persone veramente affini a noi perché siamo noi primi a conoscerci e a capire che cosa ci può piacere veramente anche perché veramente io mi sono accorta di quanto la solitudine o comunque il sapere come si è nel profondo ti porta poi persone che fanno veramente al caso tuo invece prima magari ti porta un po' di tutto un po' perché sembra una cavolata dalla legge dell'attrazione e tutte quelle cose lì però io un po' ci credo perché effettivamente mi rendo conto che nella mia vita da quando ho capito che cosa voglio effettivamente mi sta arrivando niente io come al solito spero che questo video vi abbia un po' tenuto compagnia vi abbia fatto fare quella riflessione in più quel pensierino in più fatemi ovviamente sapere nei commenti che cosa ne pensate se farete questa cosa che non fate da tempo perché magari appunto volete dedicarvi un po' di tempo a voi stessi lasciate anche un mi piace e se vi va iscrivetevi al canale se volete rivedere altri video simili ovviamente se avete qualche tematica qualche consiglio qualche cosa che volete che trattiamo qualche video futuro ovviamente anche qui lasciatemi tutto nei commenti che ovviamente leggo sempre tutti ci vediamo molto presto con un altro video quindi alla prossima e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti